Mi chiamo Emanuela Rossi, ho 40 anni, sono giornalista da 12 anni e imprenditrice da 4. Ho lavorato come autrice e conduttrice per Marco Polo su Sky e ho avuto diverse collaborazioni con Rai e Mediaset. Sono diventata giornalista con il mio ex direttore alla tv di San Marino, Carmela Sorella. Da lei ho imparato che il giornalista deve essere essenziale e diretto. Ad un certo punto della mia vita ho scoperto anche di avere delle doti come imprenditrice ed è per questo che nel 2017 assieme al mio socio Andrea Marcelli ho deciso di fondare l'unica emittente televisiva con sedia Pesaro visibile in tutta la regione Marche, Rossini TV. Amo aiutare le aziende a comunicare la propria filosofia ed i propri prodotti e credo fortemente nell'importanza dei video e della televisione. Il mio motto è non esistono scorciatoie per la ricchezza a parte il lavoro giusto, il carattere giusto, la perseveranza e il non dimenticare di farsi pubblicità.